Via Verde costa dei trabocchi, ricettività turistica da sviluppare, ma seguendo criteri lineari, progetti che non siano scomposti, evitando un litorale privo di anima e soprattutto che rispetti l'ambiente circostante, vero valore dell'Abruzzo Adriatico. Eppure continuano a nascere attività, chioschi, ombreggi stagionali in un fenomeno preoccupante, con autorizzazioni generose da parte dei comuni e la legittima voglia dei privati di sviluppare l'economia locale. Lungo la Stata alle 16, territorio di Rocca San Giovanni, nel pieno del promontorio del Cavalluccio, l'ultimo esempio è servito. Per carità, tutte le autorizzazioni sono in regola, l'attività stagionale tra qualche mese aprirà i battenti a ridosso della pista ciclopedonale. Legno, struttura non devastante, tutto secondo norma. Ma Italia Nostra lancia l'ennesimo grido di allarme. Il piano speciale territoriale, i piani paesaggistici, soprintendenza, il dissesto idrogeologico e le ovvie modifiche di falesi e promontori sono presi in considerazione. Oppure lo sviluppo turistico si avvia verso un'anarchia totale? Ci sono indicazioni da seguire? O tutto è casuale, Pierluigi Vinciguarra è presidente regionale dell'associazione. Se noi continuiamo in questa maniera vuol dire che creeremo una baraccopoli per tutta l'area costiera dicendo va bene io ci devo mettere il chiosco, io ci devo mettere questo, io ci devo mettere quest'altro e i risultati sono quelli che sono. Praticamente stiamo francavillizzando, come diceva il professore Emiliano Gian Cristoforo, la costa teatina e quindi la via verde adesso non più solo con il mattone ma anche con delle strutture movibili in legno e i risultati poi li vedremo. Non ci sono regole, non ci sono comunque dei criteri da seguire che sono stati dettati da chi di competenza? Allora ci sono dei criteri, c'è una norma, la legge regionale del 2007, la numero 5, che tutela la costa teatina e che è sottoposta al vaglio di enti che sono addetti alla tutela come la sovrintendenza, come il comune, come la provincia di Chieti e la regione Abruzzo che dovrebbe pensare anche che è una zona, la nostra costa è sottoposta a un dissesto geologico con le sue falesie e una situazione molto particolare. I risultati sono quelli che sono, quindi adesso cercheremo di saperne qualcosa in più, in merito e chiederemo anche alla sovrintendenza chiarimenti in merito, non solo al comune ma anche alla sovrintendenza, pur avendo visto che ci sono state le autorizzazioni.